Nuovo contagio ad Ogiastro Cilento, il primo dal caso di falsa positività evidenziato nel mese di agosto nel comune cilentano. A comunicarlo questa mattina è stato il sindaco Michele Appolito attraverso i canali istituzionali del comune. A risultare positivo al covid-19 è un giovane rientrato da un viaggio all'estero. La catena dei contatti, come dichiarato dal primo cittadino, è già stata ricostruita e nelle prossime ore tutti i contatti verranno sottoposti a tampone. Dalle dichiarazioni del sindaco Appolito la situazione pare sia sotto controllo e in costante monitoraggio.